salve ragazzi oggi facciamo i colori che si gonfiano qui abbiamo tutte le tonalità dell'arcobaleno ma ne manca una il verde in una ciotolina mescoliamo tre cucchiaini di farina tre di sale salecino un cucchiaino di bicarbonato di sodio se non avete il bicarbonato di sodio potete usare il lievito ma il bicarbonato di sodio è molto meglio adesso mescoliamo bene bene gli ingredienti secchi anche se abbiamo voglia di fare la pittura bisogna fare le cose bene aiuto lievita aiuto sta lievitando quando usiamo il bicarbonato di sodio non ci sono problemi è bella gonfia vellutata e rimane al suo posto con il lievito c'è questo rischio in un bicchiere a parte mettiamo tra gli 8 e i 10 cucchiaini d'acqua io ne ho messi 9 e nell'acqua mettiamo il colorante alimentare che può essere in gel o in polvere e se non abbiamo il colorante alimentare possiamo usare anche la tempera mescoliamo il colorante all'acqua così avremo un colore molto molto uniforme e adesso uniamo il tutto la miscela deve essere bella bella liscia così con un po' di pazienza mescoliamo bene bene potete usare un cucchiaino piccolino quello grossissimo l'importante è usare sempre lo stesso se avete della carta normale va bene ma se l'avete un pochino più spessa è ancora meglio questa pittura poi per i piccolini non è pericolosa perché se per caso la mettono in bocca beh non è buona ma non succede nulla ma è bellissima prendo un dischetto di cotone e ci faccio un bel cuore e ci faccio un pochino più spesso il disegno è finito ho aggiunto qualche stellina con delle paillettes spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto a prestissimo con altre idee ciao